Dallo stop, dallo stop, quindi voi venite, facciamo lo stop, ovviamente quando c'è lo stop tutti fermi. Cioè tu vuoi fare il nano, ricaro? Questa è meravigliosa, questa è... Sarebbe un po' difficile. Ma non siete un cazzo, meravigliosa. Sto svegliato. Ho un problema, puoi aiutare a risolverlo. Ciao papà. Ciao Lollo, ciao Leo. Sono sempre di casa, sono sempre così, sono perso. Io sono l'unico cantante sordo dalla terra. Allora ragazzi, ci sta sentendo il live che si sono i ragazzati della cricca dell'Urman che stanno facendo il libro, quindi ha fatto un filo in febbraio al teatro, altro spazio. Prima di questo c'è un'altra che fa molto ammistica. Quale facciamo con l'altra? Poi c'è questa, poi? Poi c'è no altri. Vai, la minore. E questa è la ballata del poro, beh, per quanto che un giorno per diletto è salito sopra un nasso che urlava tanto forte, forte tanto che la...